Buongiorno a tutti, l'HG di oggi ci porta indietro di 80 anni, al 14 ottobre 1944 e al suicidio della volpe del deserto Erwin Rommel. Tre mesi prima era stato ferito gravemente durante un attacco aereo britannico e proprio in quei giorni, mentre per le ferite di portate aveva dovuto abbandonare il fronte, si innescò la miccia dell'operazione Valkyria, il complotto organizzato contro Hitler, dove alcuni ufficiali tedeschi, tra cui Stauffenberg, decisero di attentare alla vita del Führer per salvare quello che si poteva salvare della Germania. Sebbene Rommel non fosse direttamente coinvolto nel complotto, era a conoscenza dell'operazione e pur senza parteciparvi non denunciò mai i cospiratori. La Gestapo cominciò a investigare su chiunque avesse potuto avere legami con gli attentatori e tra questi emerse anche il nome di Rommel. Il 14 ottobre due ufficiali si presentarono a casa sua e gli offrirono una scelta, suicidarsi con del veleno e ricevere un funerale di Stato con onori militari oppure essere processato per alto tradimento, il che avrebbe comportato la sua esecuzione e la persecuzione della sua famiglia. Rommel, consapevole delle conseguenze per la sua famiglia e del fatto che la sua reputazione sarebbe stata distrutta, scelse il suicidio.